So che non mi risponderai esplicitamente, ma io ci provo. Pronto alle sordie domani? Gioco? Dimmelo tu. Io ancora non so niente, quindi il mister comunque tende tanto a cambiare nei vari ruoli, anche perché ora ormai siamo quasi tutti doppi, anche tripli, quindi spero mi dà la possibilità, quello sicuramente, qualora arrivasse, cerco di farmi trovare pronto. Che gruppo hai trovato Gianmarco? Tu sei arrivato a preparazione in corso, per ora ti sei integrato al 100%. Sì, ormai sono arrivato da un mesetto a questa parte, però ho trovato veramente un grande gruppo, la maggior parte dei ragazzi già li conoscevo, da avversari, a parte Memo, che ci avevo giocato un anno a Pagani, però veramente un bel gruppo. Il tecnico Terry in conferenza poco fa ha detto che in grosso per me può giocare sia centrale, sia centrodestra, sia centrosinistra, ma se tu dovessi scegliere in una difesa a tre, dove ti trovi meglio? Ovviamente essendo un destro di piede preferisco giocare a destra, però come ha detto il mister in questi anni, ho giocato sia centrale che tanti anni anche sinistra, quindi diciamo che ormai mi sono adattato a fare un po' tutto. Domani che partita ti aspetti? Beh, mi aspetto almeno dall'immagine che abbiamo visto, una bella partita sotto il profilo del gioco, del giocare a calcio, perché allora abbiamo visto anche una squadra che inizia dal basso, inizia bene, non butta mai la palla, quindi secondo me sarà una bella partita sotto il profilo del gioco. Ultima su Yallov, perché è il pericolo numero uno. Lo avete studiato? Avrete un trattamento particolare domani? Sì, abbiamo visto che attacca bene la profondità, ha una bella gamba, quindi dobbiamo stare attenti a queste letture sulla palla in profondità. però a prescindere da Yallov abbiamo visto comunque una grande squadra, una bella squadra che gioca bene al calcio, forse fino ad ora la più forte che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo stare attenti.